...dato per me, dal Padre Celeste, forfà che con oggi la nazione nello Spirito, io ti ero un mezzo di pace per la benificazione della fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente i più poveri e i più risultati di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Affinché la pace che ci regala il Signore Gesù ci spinga a vivere come fratelli e sorelle, costruendo la convivenza e la comunione fraterna. O Maria concepita senza peccato, prego che a noi che a te ricordiamo, e per quanti a te non ricordano, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immagolato di Maria, Madre della Chiesa, in un nome al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. per l'intenzione del mese di gennaio che non abbiamo già. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei cuori, vieni Dattore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore Perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce piatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sobido, bagna ciò che è alido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è sigido, scalda ciò che è gelido, strizza ciò che è fiato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te compilano i tuoi santi doni, dona virtù e credio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Grazie. Come solamente? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, gli occhiali. Scendere, prendere gli occhiali. Chi si ha centri di sé? Questa persona. Giorno 1 del gennaio. Sì, sì. Grazie. 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 E questo è l'anno che ci viene augurato dal nostro Papa, dal suo Montevice e anche da noi, la nostra piccola famiglia. Ecco, Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. Cominciamo allora subito il Salmo 24 e con l'augurio di aprire il nostro cuore, anzi di spalancare il nostro cuore a Cristo Gesù che viene nel mondo per portare la pace. Non abbiate paura, dice, ha detto il Sommo Montevice Giovanni Paolo II, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate il vostro cuore. Allora, iniziamo allora, gli antifone fai tu e i saluti. Grazie. 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 Avanti. Apritevi, porte agite, e entri il re della gloria. Del Signore e la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. E' Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà salare del suo Lopo Santo? Chi ha mani torcenti e il cuore è puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco, la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria, il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria, il Signore dei decenni, ed entri il re della gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Apritevi, porte antiche, e entri il re della gloria. Attenzione, chi è questo re della gloria? Ed è il salmista che dice, state attenti, il re della gloria. C'è la gloria civica che manifesta la sua regalità. Quando sentite gloria, fatta la traduzione civica, colui il quale manifesta la sua regalità. E la manifesta in questo modo, perché il regno di Dio, la regalità di Gesù, è una regalità di servizio. E dirà, sottolineando agli apostoli, che volevano essere il primo, gli altri scartati, dice, state attenti, perché il mio regno è un regno di servizio. E io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Chi è allora questo re della gloria? Colui che viene a servire l'uomo dei loro profondi bisogni. Quali sono i nostri bisogni profondi? La pace e la gioia. La pace e la gioia. E da lui possiamo attingere la pace. Che accoglie questo bambino, entra nella pace, nella serenità, nella benevorezza, nell'affetto. Allora, è un ammonimento che dice il salmista. Guardate, ricordatevi che del Signore è la terra. E quando contiene. Gli abitanti, il mondo con i suoi abitanti, appartiene a Dio. Se questo territorio l'ha creato lui, gli appartiene. E lui ha dato le coordinate per reggere bene questo mondo e i suoi abitanti. Le regole non possono fare i dittatori, gli invincardi, quelli che vogliono possedere. Pensate, tutti gli imperatori del mondo che sono passati lungo tempo, i tempi antichi. Tiberio Cesare e tutti i re di Roma, tutti i longobardi e tutte le persone che sono vissute e hanno regnato. Regnando, hanno regnato così, opprimendo, facendo tiranni dalla loro autorità la tirannia. Regnando, ricordiamoci del Signore la terra, primo giorno del 2023, il mondo e i suoi abitanti. E' lui che l'ha fondata sui mari, sui mari. Totus positus in marigno est. Il mondo è porto tutto nel marigno. E' lui che ha affondato sui mari e sui fiumi. L'ha stabilito questo mondo. Ciò di dentro ha acque invide e anche acque che possono salvare. L'acqua irrora la terra, la feconda. Anche l'acqua può anche distruggere. Chi è questo il re della gloria? Colui che viene da una madre. E ci consegna la mamma. E se noi vogliamo qualche cosa. Questo Gesù ci dice, se tu non passi dalla mamma mia, io non ascolterò le tue preghiere. E' così. Anche perché questa madre nostra si benigna che molte fiate liberamente al di mandare percorre. Ci precede, non solamente ci ascolta, ma molte volte ci precede ai nostri bisogni. Allora, cosa dice? Chi potrà salire allora questo cammino di santità e di bontà? E' un mondo che dobbiamo inerpicarci e salire. E lui ci dà la forza. E' il regno. E con lui il pane? Che ha male innocenti. Male innocenti, cuore puro. Cuore puro. Carissimo Francesco, auguri di buon anno. Vieni, vieni. Vieni. Tanti auguri. A chi viene ogni mattina, saluta Gesù e saluta il suo amico. Buon anno, allora, attenzione. Poi dice, all'occhi, allora, egli otterrà benedizione dal Signore. Questa è la prima parola che stiamo sentendo questa mattina. Benedizione. Significa benedizione. Protezione. Custodia. Signora, difesa. Signora, coraggio. Significa guida. Chi è benedetto è guidato. E loterà di tutti i donne che riceverà. E dice, egli otterrà benedizione dal Signore. Otterrà giustizia da Dio. Sua salvezza. Cos'è questa giustizia? L'amore di Dio, l'amore del prossimo. Otterrà giustizia. E l'amore dice, ecco la generazione che lo cerca. Non è che lo cerca perché è per filosofia. Una generazione che lo cerca come bisogno non è, non sono i ragionamenti, ma è il bisogno profondo dell'essere. Quando uno ha fame, non è che ha fame per ragionamenti, o teorie, o biologomia. Ha fame perché c'è un istinto dentro di noi. Sta l'istinto del nostro sistema, del nostro idone, come dire, l'anatomia. Dove è così come siamo stati costruiti. Abbiamo bisogno del pane, dell'acqua, della digestione. Capite? Così anche, alla stessa maniera, come bisogno, noi abbiamo bisogno di pace. Dell'invinito, dell'invinito. Per questo dice, ecco la generazione che lo cerca. che cerca il tuo volto. Allora, se cerca il volto, qual è il volto di Dio? Qual è il volto di Dio? Secondo te, qual è il volto? Il volto, la fattezza, il naso, le orecchie, le orecchie, l'audito? Il volto di Dio si manifesta. È la parola. È la parola di Dio. Quando la parola di Dio, il verbo, si è fatto carne, ti dice che il volto di Dio è la carne di quel bambino, il volto di Dio. Non solo che il volto di Dio è il perdono che ha incominciato a seminare attorno a sé. Questo è il volto di Dio. La misericordia, la bondà, l'amitezza. Ecco perché dobbiamo riverberare, cioè dire, mostrare il volto di Dio come? Con la parola che si fa carne e d'ello di noi. L'umiltà significa. L'umiltà che è il volto di Dio. Non so, la benevolenza che è il volto di Dio. Il perdono che è il volto di Dio, combatire, essere compassionevole e così via. Tutte le virtù, le qualità. Il volto di Dio si fa carne nella nostra carne, nel nostro volto. Si riverbera. Ecco, generazione che cerca il tuo volto di Dio di Giacobbe. Allora, alzate le porte. Parziamo. Sì, io sto la porta e busso. Chiunque mi aprirà. Allora, questo convito, questa familiarità, diventa l'atteggiamento quotidiano per noi. Nutrirsi di noi. Stare come una grande famiglia. E' bellissimo, bellissimo. Allora, vedete per quale motivo, all'inizio del pontificato di Giove Paolo II, ho usato questo. Non abbiate paura, non abbiate... La gente ha paura. Ha paura di spogliarsi dei propri progetti che sono meschini, tristi, goderezzi, ma ad un godimento, però, è strano, vizioso, corrotto, triste, ancosciante. No, è tipo quando Totò ha detto che aveva paura di andare da Padre Pio. Sì. Aveva paura perché questo cambiamento, chissà che cosa mi dirà, questo cambiamento. Eh sì, è così. Ma guardate, in effetti, uno che incontrava Padre Pio tremava. Sì, sì, l'ho sperimentato io. Certo. Tremava perché, e vi devo dire una cosa meravigliosa e stupenda, mi ha fatto capire il giudizio di Dio. Che tremendo. Questo giudizio tremendo l'ho avvertito io dentro, nella profondità del mio essere. L'ho sentito. E di là il paradiso. Paradiso. Come dire, una specie di, come dire, una scossa che mi è partito dal cervelletto fino al coccige. Proprio ho sentito questa scossa, questa, proprio come una vertigine. Non so quanto è durata, però, pensate, la mia confessione è stata proprio, mi sembra, adesso guardando, così è stato, come dire, un colpo di fulmine, così, il sun moon, ma che ha, che ha, che mi ha travolto, veramente. Ecco per quale motivo, ogni volta che ci penso, ho compreso che tutta la vita devo trascorrere, ricordare quello che mi era accaduto, mi è accaduto. e quel ricordo mi riempie di silenzio, di silenzio. Bellissimo. E poi, veramente, io, lo devo ringraziare, per questo, come faccio a a dimenticare e ringraziare Don Domenico, la bell'arte, che è stato quello che, tramite il papà di Don Fabrizio e Don Luigi, Luigi, Mazzocchio, sì, perché stavo sempre con loro, no, con il papà di Don Fabrizio e il papà di Don, il Peppino si chiama, Giuseppe Mazzocchio, che era capo ufficio di di una banca, della banca, sì. Te lo ricordi quello che ti ha detto? No, non mi ha detto nulla, niente, però, tanto. Nulla le ha dette? quello che avventiva Tototo di essere impresso è così. È una grazia. Perché? Sì, è una grazia. Benio Meno, Gigli, gli disse, gli disse così, chi è che ti lava la tua, la camicia? Chi è che ti lava la camicia? quando padre Pio diceva una parola era come un richiamo metaforico. Un doppio significato. Un doppio significato, ecco, sì, capito? Quando il padre modestino gli ha detto mi devi portare un tagliavetri. anche questo è una metafora. Certo, perché io non è che mi avevo manifestato la volontà di tornare a San Giovanni Rotondo. Ci ho pensato dopo, non è che, per cui, è una realtà che poi ha preso corpo. Vieni, facciamo gli auguri di buon anno. Sì, grazie. Questo lo faccio lì. Sì, sì, grazie. Auguri, buon anno. Sì, auguri. allora, allora stavo dicendo è così, allora ha capito che bisognava lavare la sua anima. E così in ogni cosa. Oppure, quando io mi sono incinocchiato, lui era una parte e io mi sono incinocchiato, lui era rimasto qui e mi sono incinocchiato qui e era troppo distante. Allora, con le ginocchia ha fatto i passettini, mi sono avvicinato padre Pio e ho toccato la vetro elegante. Mi ha guardato e mi dicevo, spingimi, spingimi, è che mi cadrai addosso. e mi cadavano il dorso e sono caduto addosso a lui. E' la metà la cosa, C'è che era entrare dallo spirito il padre Pio. faccio così. Perché? Perché leggevo alcune parole che mi ha detto la bell'arte nel 2010 quando sono andata quando mi ha detto è stato bello, ho un quaderno con tutti gli appunti. Bellissimo, sì. Allora, ti ricordi quando Don Domenico ha comunicato il mio nome e la mamma? Sì. Ti ha conosciuto? Sì, capito? Anche perché quando un uomo santo ti dice il nome sei dentro lo spirito perché il Signore parla, non parla mai direttamente ci serve dei Suoi profeti e nessuna cosa ci accadrà senza che il Signore non ce lo faccia sapere in un modo o nell'altro come quel prete che ha incontrato sull'aereo per esempio bellissimo che dice non mi conosce ci siamo incontrati sì che all'oltre ho fatto una preghiera alla Maria della Grotta che è da Maria cosa vuole Gesù da me io stavo e poi me ne sono andato e mi ferma questo sacerdote e mi dice si mi guarda e mi ha detto sto pregando per il dono che hai ricevuto io rimango di stucco e poi me lo sono trovato in aereo l'1 settembre per andare a Bari quindi stavo andando a Bari ma in quel appuntamento avete appunto e quando sono sceso all'aereo lui davanti sui pellegrini mi ha detto tu un giorno sarai sacerdote e ti ricorderai di questo volto quando ce ne entrerai la tua prima mesta chi è questo re della gloria il signore degli eserciti è il re della gloria l'esercito significa colui il quale azzera tutte le nostre false sicurezze gli idoli false sicurezze non abbiamo nessuna sicurezza serone in Cristo Gesù e nessuno può prendere il porto di Gesù Cristo nella nostra vita assolutamente nessuno andiamo alla seconda salva perché un uomo è nato in lei l'altissimo ha consagrato la sua dimora 87 prendiamo 87 sui mondi di chi è si dicono cose che vuole le città di Dio e scriverò l'abbia e papilonia tra quelli che mi riconoscono ecco il filistea Piro e Pionia l'altro su cui è nato si dirà di Sion Padre l'un e l'altro e in essa sono nati e lui l'alchissimo la mantiene certa il Signore registrerà nel libro dei popoli la con cui è nato e danzando canteranno sono in te tutte le mie sorgenti gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen un uomo è nato in lei l'altissimo l'ha consagrato la sua dimora allora un uomo è nato in lei e quella questa natività del greco della Vergine Maria diventa la sorgente di tutte le grazie dice vedete dice così l'unico non nato è nato in essa Signore registrerà nel libro dei popoli l'ha costruito siamo nati tutti da questa sorgente la sorgente della grazia è Maria ma non è non è non è la grazia è la sorgente della grazia che ha generato la grazia e la grazia è colui che è potente colui che è forte colui che è dono si è fatto dono per noi si è donato per noi perché attraverso questo dono noi avessimo quel vigore questo non è un dono quando riceviamo l'Equalistia non è un dono il dono di Cristo che si rende forti ci rende dice potenti come una fissione nucleare non dobbiamo mai dimenticare della potenza di Dio quando entra dentro di noi l'Equalistia Gesù figlio della Vergine Maria sede della sapienza la Madonna è chiamata sede la sede il trono dove è stato generato la sapienza quindi sapienza fatta carne nel grembo umano della carne umana della mamma nostra celeste perciò il sapore il verbo incannato significa sapienza fatta carne e la sapienza fatta carne sente il sapore del DNA della madre quindi noi gustando l'Equalistia gustate vedete quanto è buono il Signore noi gustiamo anche ciò che ha insaporito quel frutto benedetto di 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 frutto benedetto insaporito della mamma nostra Maria andiamo verso 99 salmo 99 generato prima dell'aurora e dell'inizio dei secoli oggi è nato il Signore nostro salvatore il Signore regna tra i mali popoli si è dentro i cherubini si scuote la terra grande il Signore Zio eccesso sopra tutti i popoli l'odino il tuo nome grande e terribile egli è santo forza per te e amare il diritto tu hai stabilito ciò che è vero diritto e giustizia hai operato in Giacome esattate il Signore nostro Dio prostrati allo sgabbello dei cichè egli è santo Mosè e Arone tra i suoi sacerdoti Samuele tra quali invocavano il suo nome invocavano il Signore ed egli rispondeva parlava loro da una colonna di studivano i suoi segnalenti e il pregetto che aveva loro dato Signore nostro Dio tu li esaudivi ed per loro un Dio che perdona pur castigando i loro peccati esaltate il Signore nostro Dio prostrate di davanti alla sua santa montagna perché santo il Signore nostro Dio gloria Padre Padre al Figlio e lo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amene generale prima dell'autora e nell'inizio dei secoli oggi è nato il Signore nostro Salvatore allora guardate la ricchezza e il contenuto di questo Salmo che ci fanno comprendere profondamente l'essenza di colui che è venuto Gesù allora non possiamo immaginarci nulla non possiamo dedurre nulla di quello che è realmente concretamente Gesù allora facciamo solamente la domanda la forza del re in che cosa consiste la forza di questo re Gesù è il re si oltre per natura il re re che da cui radice la parola re è la radice del regno tutti i regni lui è re dei re re dei regni colui che regna e regge tutti i regni allora qual è la forza di questo re la sua giustizia la sua giustizia la parola domina versetto 4 quella è la forza di questo re versetto 4 amare il diritto è l'amore la forza di questo re è l'amore l'abbiamo meditato abbiamo pregato e l'abbiamo e l'abbiamo dimenticato perfetto voi allora scandito vuoi leggere con calma versetto 4 la forza del re è amore perché amare il diritto è lì il diritto uno si perde ma l'amore dice tutto certo andiamo al diritto civile e diritto canonico diritto umano allora se noi andiamo a prendere quest'amore in tutto ciò che appartiene alla dignità dell'uomo cioè dire la forza di Dio sta nel farci comprendere che è l'amore cioè dire un valore grande che gli appartiene perché lui ci ha creati per l'amore ci guida con l'amore per l'amore dando i nostri diritti umani e il diritto umano è essere rispettati nella nostra dignità profonda nella sua radice profonda dell'essere perché e così guardate in fondo per quale motivo facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e anche lì tutta l'inclusione di tutto quello che possiamo pensare di Dio ed è nell'uomo nell'uomo stesso allora un pochino ha messo il sigillo della sua persona nel volto dell'uomo il volto dell'uomo è il volto di Gesù né più né meno qualsiasi cosa avete fatto uno di questi perché dice piccoli c'era bisogno di dire qualsiasi cosa avete fatto al vostro prossimo non l'avete fatto a me al vostro prossimo è la stessa cosa però perché dice piccoli perché siamo no siamo facilmente emarginati calpestati non guardati perché il soprafattore gli uomini si calpestano con le loro ghiaccherie le loro perdere il loro orgoglio le loro dissolutezze comunque guardate ogni anche le virgole hanno significato tutto ha un significato per cui bisogna veramente assimilare tutto prendere e sostanziare la propria esistenza in ogni parola essa va bene andiamo poi dice così un'altra cosa che ci richiama il sacramento della della testimonianza Signore nostro Dio tu li esaurivi versetto 8 eri per loro un Dio che perdona chi è Dio colui che perdona Dio che perdona allora un padre miserabile facciamo questo perdonare perdonare è composto di due parole perdono significa un dono moltiplicato è un Dio che ci dona totalmente continuamente i suoi doni che li moltiplica giorno per giorno perdono dono per dono moltiplicato moltiplicato dono chi è Dio è il moltiplicato è uno colui il quale moltiplica il dono perdono allora allora dobbiamo dire il suo amore è per sé un perdono moltiplicato per sé quante volte devo devo perdonare disse Pietro a Gesù sette volte no sette volte ma sette settanta volte sette per sette sempre chi è Dio è Dio è colui che ci ama sempre perché perché il suo amore è per sempre per moltiplicato sempre è un amore moltiplicato sempre e non si stanca mai altrimenti possiamo provare a un Dio che si stanca no ma è un Dio siamo noi a stancarci a chiedere perdono perché sempre facciamo le stesse cose stesse cose senza cose è un Dio che ci dà sempre i doni magari noi non ce li accogliamo ma ci dà sempre i doni per esempio io ho ritornato a Pupupà con Padre Pio mi è venuto in mente quando il popolo pur vedendo tanti miracoli però era di dura certezza ora io dico a noi ha dato pure questo dono Padre Pio nel tempo nostro e come si fa a non avere fede a non avere che già è una cosa concreta vedendo Padre Pio e quindi è la stessa cosa di quel periodo secondo voi sì sì esatto sì la stessa cosa l'uomo non ci è cambiato basta all'onorarsi da Dio perché diventa lucifero allora attenzione allora è molto bello come l'umiltà di Dio Padre che ce l'ha manifestato Gesù Gesù umile che a un certo punto si presenta di anzi al Padre e gli dice non vuoi più sacrifici di animali di torri di voi di giovenghi di capre e di tante altre cose no tu dammi un corpo umano ecco io vengo per fare dammi un corpo mi ha dato un corpo perché perché possa compiere ciò che piace a te allora ha eliminato tutti i sacrifici antichissimi e lui è diventato la vittima perenne di tutti di tutti i capri espiatori e lui è stato l'espiazione di tutti i nostri peccati e ha guadagnato ci ha guadagnato ha guadagnato ha guadagnato tutto il mondo attraverso l'ingarnazione di Cristo e tutte le grazie sono venute su questa terra attraverso il tono di sé Gesù un bambino nella nella rotta di Petran è diventato il tesoro più grande del mondo e tutti dobbiamo attingere da quella grotta dove Gesù è venuto e da loro in noi fa lo stesso percorso nostro guardate si è spogliato di tutto e la sua divinità è stato uno di noi annullato se stesso guardate allora cosa ha fatto il padre quello che ha visto nel figlio suo lo ha fatto anche lui Dio padre che cosa ha fatto non lo sapete ha messo un anello la neve ha fatto questo guarda carissima zia Gina auguri buon anno buon anno buon anno e un anno in più che cosa ha fatto zia Gina è occupata vicino a me che c'è lì Francesco e Assuntino Assuntino e Francesco chiasi guida chiu dì chiu dì chiu dì ora vieni Grazie. Buon anno. Guardate allora, mi sto dicendo una cosa molto importante. Gesù allora è stato il mediatore di tutte le grazie. Mediatore. C'è un unico mediatore. È la Madonna Mediatrice. Allora, Dio Padre, questo è il termine viso d'eterno consiglio, la filosofia, il progetto già pensato fin dall'eternità. Nel momento in cui il figlio di Dio, Gesù, si è fatto carne, allora cosa ha fatto Dio Padre? Ha preso tutte le grazie che si è acquistato il suo figlio Gesù, il figlio Gesù e li ha messo nel deposito del cuore della Madonna. Guardate che importantissimo. Adesso tutte le grazie e proibì... Ciao Tito. Lui è stato uno dei primi consagrati della Madonna. Tito, Tito Contello. Vieni, vieni Tito. Tito, vieni. Auguri a tutti, buon anno. Buon anno. Buon anno. Auguri. Che Signore veramente tenuti a portare il grande peso di responsabilità nella Tua corsia. Vieni, vieni la nera. non dimenticate il mio discorso Rosalpina, Rosalda Alfonso Allora, non dimenticate quello che devo dire Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti Buon anno Allora, stavo dicendo Tutti i tesori che Gesù ha guadagnato per noi con la sua morte e risurrezione, tutti questi tesori insieme con il Padre l'hanno consegnato alla Madonna Ed è proibito passare direttamente da Gesù al Padre se uno non passa dalla Madonna Siccome c'è una tanta ignoranza in questo senso, allora così con presunzione Ma dice Dio Padre, Dio Padre, basta Dio Padre, rivolgermi a Gesù Quasi Gesù Capite? Questi sono salti mortali che uccidono la fede e creano una falsa religione C'è una progressività, nessuno va dal figlio senza passare dalla madre, chiunque Gesù sia Questo è un modo nell'ordine delle cose Prima viene la madre e poi viene il figlio E il padre è una ruota di scorto Quasi Prima è la mia madre Madonna, capito? Allora, San Bernardo, questo diceva San Bernardo di Chiaravalle Grande Santo, che ha ispirato l'amore della Madonna e il grande Dante a Righieri Allora, dicevo così Quando il Signore ha creato le acque, le ha chiamate, come le ha chiamate? Mare Mare, le ha chiamate Mare Oceano Guardate quant'acqua qui c'è Non lo sapeva La professoressa non sapeva che quando Dio ha creato le acque, le ha chiamate Mare Non lo sapeva Mare Marcaspio Allora, e quando ha creato le grazie, le ha chiamate? Maria Maria Allora, e lo chiarisce il nostro carissimo grande San Luigi Grignone de Monforte Lo chiarisce Allora diceva così Noi, le nostre preghiere, quando si elevano a Dio Padre, a Gesù Cristo, per Gesù Cristo nostro Signore, eccetera Sono tutte sporche Fanno parte della nostra debolezza, della nostra fragilità E sono impolverate Sono un po' intrisi di un certo egoismo Perché non sappiamo pregare tante volte E sono così Siamo veramente impresentabili le nostre preghiere Allora, perché siano degne di chi imploriamo Imploriamo quello che abbiamo di bisogno Aiuto, sorteio, coraggio, pitezza, umiltà Perché quando noi facciamo la preghiere per ottenere l'umiltà Non sappiamo pregare nemmeno con l'umiltà per ottenere l'umiltà Perché siamo, imbanchiamo un pochino Noi abbiamo le mani sporche E quello che noi trattiamo per dare al Signore Sono sporche Allora, la Madonna ha questo servizio Ha servizio nostro Noi gli diamo tutte le nostre preghiere da consegnare a Gesù Gesù le consegnerà al Padre Suo C'è una connessione, una gradualità Passaggio, il passaggio obbligato Allora, cosa fa? La Madonna vede tutte le nostre preghiere di un amato Tutte queste cose un pochino lorde Li pulisce La Madonna li pulisce Poi si mette una bella confezione E li presenta in un modo dignitoso A Gesù A Gesù Guardate l'espressione del santuario di Seracusa E dice alle sue lacrime Il suo figlio Gesù nulla rifiuta Posso dire questa cosa? È la devoblina Sì La devoblina Sì Allora Maria Andiamo a Seracusa Alla Madonna delle lacrime E riceviamo questa grazia Ci siamo messi in macchia Ma dopo mesi di litigio Che non si voleva ritorno a questa cosa Siamo andati al santuario E siamo entrati Abbiamo chiesto questa grazia E poi la seconda messa Abbiamo proprio implorato Lui abbiamo implorato la Madonna E poi tutto si esiste Lui torna a casa No, ritorniamo da Seracusa E dopo vari giorni Lui torna a casa il giorno della Madonna delle lacrime Ritorna dalla sua famiglia Capito? Questi sono gli lacrime Dobbiamo esercitare la nostra umiltà I passaggi che dobbiamo fare Non andiamo dritto a Gesù Andiamoci per mezzo di Maria Con Maria E nello spirito di Maria Nello spirito di Maria Abbiamo terminato? Sì, sì La dicono alle letture Il verbo di Dio si è fatto carne Alleluia È venuto ad abitare Vecchio a noi Alleluia Dalla lettera agli ebrei 2 Capitolo 2 9 e 17 Lettera agli ebrei Cristo si è fatto In tutto Il simile Pai fratelli 2 9 Ebrei 2 9 Per cui Giussi 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 non è con noi perché sta preparando il pranzo a mezzogiorno, è vero? Esatto. Sì. Sì o no? Sì, sì, perfetto, quasi così. E non solo, lui andrà subito a preparare la grigliata. No, io preparo lei. Andiamo al versetto 9. Allora inizia, forza. Tuttavia. Aspetta. Quindi Cristo si è fatto in tutto simile ai fratelli. Capitolo 2, versetto 9. Forza via. Tuttavia quel Gesù. No, avendo sottomesso. No. No. Tuttavia. No. Aspetta. Sì, aspetta. Avendo. Incominciamo. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora come gli sia a lui sottomesso. Capito? Avendo sottomesso a lui il padre, avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente. Che ci voleva? No. E' necessario questo versetto prima, precedente. E' al momento presente, però, tuttavia, per Gesù, che fu fatto di poco e inferiore agli angeli, forza. Ora. Ora. Avanti, Gesù. Allora. Lo vediamo. Sì. Lo vediamo, coronato di gloria e di onore, a causa della morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli provasse la morte al vantaggio di tutti. Ecco, coronato di gloria, perché è passato attraverso la sofferenza. Attenzione, dalla sofferenza si arriva al combimento dell'opera di Dio. Lo ripeto, senza la sofferenza non si completa il progetto di Dio in noi. Per questo Giacomo dirà, e voi lo sapete a memoria, no? Considerate perfetta retizia quando voi fate subite qualsiasi genere di prova, perché la fede è messa alla prova di pena di prova. La fede è messa alla prova produce la pazienza e la pazienza completa l'opera di Dio in voi perché il volere e l'operare vengono da Dio per i suoi benevoli disegni sopra di noi. La santità non si costruisce mai senza le sofferenze e la dannazione non appartiene all'uomo se soffre da disperato. Non solo è chiaro. La sofferenza conduce alla dannazione se non è offerta al Signore, ma se è offerta al Signore produce santità. Prego. Frutto dello Spirito. Sì. Pazienza. E la capacità di perseverare nell'amore anche di fronte a situazioni pesanti. Salmo 72. Perfetto. Capite? Salmo? 72. 62. 72. Ripetelo. 67. No, 72. 72. Sì. Di nuovo? Sì. Frutto dello Spirito. Pazienza. E la capacità di perseverare nell'amore anche di fronte a situazioni pesanti. Sì. 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 E chi di noi non è passato attraverso e ne passeremo pure. E siamo più che vincitanti. Ecco perché dobbiamo essere sempre pronti. Dio. Allora andiamo. Conveniva infatti. Che Dio per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose. Lui che conduce molti figli alla gloria. Attenzione. Lui che conduce. Carissimo Pasqualino. Auguri di buon anno. Anno. Anno buono. E c'è un anno buono. L'anno buono sarà buono. Ci accoglieremo il buono. Il buono. Gesù. Veramente abbiamo sbagliato. Solamente Pasqualino come sposo. Come nonno pure. Come nonno. Dobbiamo dimenticare Carol. Allora. Comunque Giussi. Giussi. Sua moglie è in diretta con Dario. Ci segue con Dario. Con Dario. Ah benissimo. Come tutti gli altri diciamo. Perché hanno scritto. Ha fatto gli auguri di buon anno. Maria Ciarrotolo. Sì. Patrizia e Angelo. Sì. Dario. Grazie. Lillina mi scrive ricordiamoci. Sì. Allora. Ti vuoi alzare e facciamo gli auguri. Maria Rita. Maria Rita pure. Maria Rita. E così. Alziamoci. Ci alziamo e facciamo gli auguri di buon anno a tutti quelli che ci seguono. noi ministri non nemmeno comunque. E l'auguri è questo. Dobbiamo essere artigiani di pace. Come ci ha detto il Papa nella lettera apostolica in cui ci ha detto all'inizio di quest'anno. Dio. Quindi artigiani. E non possiamo chiedere la pace se non possediamo colui che è la pace. Gesù. E sarà con noi se noi ci allontaniamo dal peccato, dall'orgoglio, dall'ambizione, da tutte quelle cose che ci allontanano a Dio. Cioè osservando i dieci comandamenti, tanti auguri allora a tutti. Anche a Maricò. Anche ecco a Maricò e tutti gli altri. Facciamo un applauso per quelli che sono... Grazie. Ci sediamo. Allora attenzione perché siamo adesso in un versetto molto delicato e molto importante. Carissimo Giuseppe Mariuccia. Allora, ciao Saveria e Maria Luisa. Ci saluti alla nostra Bibuccia. Dunque, non dimentichiamo che questo primo giorno dell'anno ha un sapore tutto particolare. Perché chi insapora questo anno è la Madonna, la Madre di Gesù. La Madre di Gesù che si presenta a noi come sale, come sale perfore, sale della terra. e noi non possiamo agire tutte le nostre azioni. Tutte le nostre azioni. Se non hanno il sapore gustoso del rapporto con Dio, allora è un po' come una vivanda dove non ci metti il sale insipido. Allora, la Madonna, donandoci Gesù, ci ha dato il sale della terra che insapora tutte le nostre azioni e le rende pieno di valore, di grazia, di benedizione, di coraggio, di speranza. Ma perché non dobbiamo accogliere quello che, come dire, lievita meglio la nostra vita? La eleva, la eleva. Non dobbiamo accontentarci di quello che siamo. Siamo chiamati ad essere grandi. Non possiamo strisciare per terra e mangiare polvere. Siamo chiamati a volare. Se il Signore ci ha dato le ali, non possiamo agire come i polli. Se ci ha dato le ali, non possiamo essere polli. I polli hanno le ali, però cosa fanno? Come dire? Ruspano. Ruspano. Sono così. Ma non basta. Invece ci ha dato le ali per volare ali di aquile. Ali di aquile. Non ali da capponi oppure non so di altro. Capito? E allora attenzione perché quello che stiamo adesso leggendo ha un valore straordinario. Perché ci fa capire l'importanza della sofferenza che dà sapore alle cose. Il dolore senza l'amore non dà sapore. Il dolore senza l'amore non dà sapore. Cristo Gesù era tutto proteso verso la religione del mondo. perché l'ha stabilito il suo figlio, il Padre, Dio Padre, che suo figlio soffrisse perché tutti potessero entrare nella gloria. Per questo il crocifisso è il segno della salvezza. In occhi signo vinges. Andiamo allora. Siamo al versetto? Dieci. No, dieci. Dieci. Conveniva infatti che Dio, per il quale, mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Dicete. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. In mezzo all'assemblea canterò le due loro. Che giorni? Aspettate. È importantissimo. Allora, Rossana, cosa hai capito? Prende la Bibbia. Come non? Cioè, ricominciamo dalla parola conveniva. Era necessario. Era necessario. Che cosa era necessario? Che Gesù partisse per poterci aiutare e diventare... Cioè, Gesù facendosi uomo, la sua natura, quindi la natura umana, ci ha nobilitati noi stessi, diventando fratelli. Allora, attenzione. Abbiamo la stessa origine. Dio padre... E della sofferenza. Sì, sì. Ho capito. Ho capito però. Allora, Dio padre ha stabilito e questo è un decreto essenziale, sapere questo, per favore. perché molte volte non si dicono queste cose, purtroppo. Non è che non si dicono, perché tante volte si dà come scontato, noi preti specialmente facciamo così, invece non è così. Allora, il decreto è questo, che nessuno si deve perdere, che tutti si devono salvare. Allora, qui c'è scritto, Dio dice come era necessario che Dio, volendo portare tutti gli uomini a salvezza, di quale mezzo si è servito? Si è servito della volontà del suo figlio Gesù che si è presentato, manda a me, dammi un corpo, manda a me. Allora, era necessario che suo figlio Gesù fosse reso perfetto per salvare gli uomini attraverso la sofferenza, la sofferenza. Lo ha reso perfetto per salvare tutti gli uomini con la sua sofferenza. Capite per quale motivo, quando soffriamo, quando la sofferenza busta la porta, non possiamo disperarci perché rifiutiamo la salvezza come quello di Gesù. Quando accogliamo la sofferenza come grazia, noi ci mettiamo in questo alveo straordinario, ricco di grazia, che è la corrente della salvezza che Gesù è venuto a portarci. Partecipiamo alla sofferenza di Gesù e ci salviamo, ma solamente salviamo noi, ma anche gli altri. Non so se è chiaro. Se c'è stato qualche parola fuori posto, c'è stato qualche parola fuori posto. Allora, attenzione, guardate la Madonna quanto è delicata. Disse così, dite il Santo Rosario e fate qualche sacrificio. Fare qualche sacrificio è anche equivoco. Dice così, fate qualche, cioè quando voi siete nelle situazioni di fare un sacrificio e non potete fare a meno di affrontare la sofferenza che avete da sopportare, fatelo volentieri perché potete con il Santo Rosario e la sofferenza che portate addosso di qualsiasi tipo sofferenza, uno che assiste ad un ammalato, soffre insieme all'ammalato. Pensate a Maria Luisa, Maria Luisa, che da sette anni, o no? Tredici anni. Tredici anni. Segue la mamma con la protesi, non mangia la protesi, continuamente. e gli fa, gli porta alla comunione. Con il metodo che abbiamo un po' sperimentato, sciogliere e poi metterlo lì. Allora, la sofferenza di qualsiasi tipo, sopportare con pazienza il marito ubriacone, per esempio. I figli testardi, offrire la sua sofferenza e le preghiere perché il Signore compia l'opera della religione. Madonna questo! Molti vanno all'inverno perché non c'è chi dice rosario e che faccia qualche sacrificio. e molti vanno e si dannano. Capite? Chi prega si salva e salva. Chi non prega si danna e fa dannare. Capite per quale motivo conveniva, era necessario che Dio Padre, volendo condurre tutti i figli alla gloria, rendesse perfetto il suo figlio Gesù attraverso la croce, attraverso la sofferenza. Perché questa è la legge. Purtroppo, o vuoi o non vuoi, pensate, Gesù, chi è? Chi è stato più perfetto di lui? Lui che ha agito con amore, per amore e che era tutto dedito alla misericordia, alla bontà, all'amitezza, alla comprensione, al perdono. No, hanno trovato il pene nell'uovo, l'uovo. L'hanno condannato, non potendo avere motivi validi, hanno chiamato falsi testimoni e hanno fatto ricadere tutta la condanna in politica. Ecco la nostra famiglia che viene dalla Svizzera, Antonino, Rosi e Francesco. Venite qua. Sono i cioccolatini che avete mangiato ieri. L'avete mangiato? Sì, sì. Il guarito, il miracolato. Francesco. Questo è uno dei proprietoristi, come San Giuseppe, Falegname. Qui in Svizzera. È più richiesto da tutti. Perché ci serve sia degli strumenti, però quella dell'arte della mano callosa è quella sua. Sì, sì, la ferita è stata guarita. Guardate, fai vedere la ferita. Guardate, è un po'. Molto, molto pericolosa e rischiosa. Però ha sofferto? Sì. Tre mesi. Sì. Di più. Di più. Lui ha sofferto. Allora la sofferenza, uno che sa che la sofferenza ha un valore grandissimo, Devo dirci. Gesù, io ti offro queste mie sofferenze, però stiamo attenti a non dare i pugni dove non ti può possibile dare pugni. Si è visticiato con un vetro e allora è stato ferito. Benissimo. Ricraziamo il Signore. Adesso è guarito. Allora, comprendiamo allora qualsiasi cosa. Diceva Sante Teresa, il bambino Gesù, anche un sospiro offerto al Signore può salvare un'anima. un sospiro, una spina, mi fa male al cervicale, mi fa male il dito dei piedi e così via. E ti dice quante sofferenze. Ti offro, ah guardate una cosa, uno stornuto di così, è un sacrificio. Tu ci disturba e il Signore dice quante anima puoi salvare? Ogni stornuto è un convertito. Guardate, aiutiamo Gesù a convertirsi. Totò, e tu? Frangelato. A lui dobbiamo chiedere che cosa non hai. Mi può chiedere quello che non ho. Si scopriamo. C'è tutto. Ma cosa è l'ultimo? Offre tutto. Offre tutto. Offre tutto. Il Signore ha Gesù che ci ha visto. Come vedete. Il domicilio delle nostre sofferenze, se non sono ai piedi della croce, svaniscono. Cadono a terra. Non contano proprio, non contano nulla. Santra Vitale scrive, grazie mille per questo bellissimo inizio d'anno con l'Alezio Divino. Grazie. Auro, gereno anno, colmo di salute a tutti e tantissima fede, il resto viene da sé. Bravo. Complimento. Ma non bisogna scrivere? Si. Scrivi. Vieni qua. Dove scrivere? Vabbè scrivi. Perché poi dobbiamo fare un libricino di tutte le testimonianze che voi fate. Voi fate. Anche loro guardate dalla Svizzera, ci seguono, ci seguono. Vetti la data? Primo gennaio. Va bene, continuiamo. Pasqualino, versetto. Siamo alle 11. Annuncerò il tuo nome ai miei poteri. In mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. E ancora, io metterò la mia fiducia in Lui. E inoltre, eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché è giunque fino. Attenzione. Anche questo è un secondo elemento. Angela, ci sono stati, vieni qua. Allora, guardate quanto è molto importante. Questa seconda motivazione importante che ci viene da questo versetto 14. attenzione perché non dimentichiamo, non possiamo comprendere, attenzione, non possiamo comprendere il mistero della nostra esistenza umana se non comprendiamo il mistero dell'ingannazione di Gesù perché si è fatto uno di noi. Vi prego, non ascoltate voi inutilmente. Vi prego, dobbiamo insaporire la nostra esistenza. È Gesù che diventa sale che insapora. Se il sale è sbindato, non può nemmeno congimare la terra e l'orto. Lo brucia. Questo ce lo insegna Luciano. Il sale non può congimare quando è sbindato. Anzi brucia le radici, le radici degli alberi. Allora attenzione su quello che stiamo dicendo. Versetto 14. Forza, leggi. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipato. Per quale motivo Gesù ha preso la nostra natura umana? Ha partecipato della stessa natura umana? Per quale motivo? Per quale motivo? Essendo, attenzione, poiché tutti i figli hanno in comune, noi abbiamo in comune la carne e il sangue. Siamo fatte di carne e di sangue, sì o no? Sì. Sì o no? Sì. Eh, di carne e sangue. Anche Gesù ha preso la nostra carne e la nostra sangue. Per quale motivo? Ve lo siete chiesto per quale motivo? Attenzione, perché qui c'è la risposta che non possiamo inventarcela. Non è una deduzione filosofica, ma è teologica della nostra umanità, il valore della nostra umanità. Perché tutto prende valore, tutto prende valore. Le nostre lacrime, pensate che il salmista dirà così, i passi del mio pagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo racconto. Preziosi le lacrime nostre, le sofferenze. Tante volte muore una persona cara, il pianto, la sofferenza, lo strazio del distacco. Quante sofferenze del cuore! E non possiamo essere insensibili. Offerta al Signore, pensare alla sofferenza del Cristo che anche Gesù ha pianto dinanzi alla tomba di Lazzaro, suo amico. E quando lo videro piangere, disse quanto quanto lo pareva bene. Chi ama piange, chi ama soffre, chi ama veramente al cuore ferito, è così. Allora, no, no, aspetta. Dopo, dopo parli. Voglio che ti ripeto un'altra volta, perché questo è un pilastro fondamentale per la nostra vita spirituale. Non possiamo essere più distratti. Quando abbiamo qualcuno che tante volte ci offre, tante volte non ci considera, ci mette ai margini, non ne vuole sapere, non ci guarda più. Noi che abbiamo fatto tanto bene, non c'è gratitudine e allora ci amareggiamo. Come tante persone che sentiamo dire, quello non è venuto al funerale di mio figlio, di mia figlia, oppure di mia nuora, di mio nonno, di mio nonbisnonno. E li odiano fino alla morte. Cosa dell'altro mondo, di pagani, pagani, non ci si può comportare così. Il Signore ci vuole così come lui ci descrive, vuole lui. Allora, noi figli che abbiamo in comune la carne e il sangue, anche Gesù allo stesso modo ne è divenuto partecipare. Per quale motivo? Ecco, forza. Per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Allora, è lungo questo qui. Allora, per quale motivo ha preso la nostra carne? Per rendere impotente il fascino del male. Per rendere impotente il demonio che ci insidia, sempre ci tenta. Capite? Allora, l'impotenza del demonio è stata così bloccata attraverso la croce. Per questo mettiamo la croce nel petto. La croce fa spaventare il demonio e il suo fascino viene attenuato al mille per mille. Quelli che sono lontani dalla croce. Capite il demonio che è entrato nelle scuole, è entrato nei professori che non credono e che sono contro la croce. Si ribellano contro la croce, la croce negli ospedali. Non lo vogliono e vogliono che si muoia disperati nel dolore. Capite? Noi abbiamo una società che è diventata pagana, pagana, dura, come questa pietra. Questa pietra ormai è diventata storico il gesto del nostro Pasqualino. Sandra scrive cosa significa attenuato. Attenuato significa ha bloccato il fascino, lo ha diminuito il fascino, lo ha praticamente messo da parte il fascino. Non è più violento. Capite perché dobbiamo portare la croce e baciarla, portarla nel collo e prima di coricarsi il baciare la croce. Facciamo il segno di croce. Gli ho dato la bottiglia di acqua benedetta. Che cosa ne fate? Scusatemi, non lo chiedete nemmeno la bottiglia di acqua benedetta. Non lo chiedete. Questo è anche un segno brutto. Noi abbiamo benedetto dinanzi a tante persone in diretta l'acqua benedetta, ma nessuno. Poi ho detto domani potete chiedere. Nessuno ha chiesto l'acqua benedetta. Complimenti. Io vi dico l'esperienza che faccio io a casa prima di andare a letto. Il segno di croce. Ma è bellissimo. Come? E' sereno così. Ecco anche i tuoi figli. Capito? Sì, è così. Una tazzina di tè, metteteci un po' di acqua e vi segnate col segno della croce. C'è una possibilità di acqua? Sì, sì. Arciati. Perché... Siccome dove sono io c'è un esorcista, no? No, perché capire l'importante dell'acqua benedetta. Sì, sì. Cioè proprio si arrabbiava. No, no, no. Vai via, vai via. Facciamo così. Poi l'altra testimonianza è stata che c'è un ragazzo che ha problemi di possessione e la mamma mi ha raccontato che ha preso una bottiglia, senza normale, gli ha messo l'acqua benedetta e lui, questo ragazzo... Fin dalla tua vita? No. Questo ragazzo senza sapere che era l'acqua benedetta, esorcizzata, si gira verso la mamma e gli ha detto non ti permettere più. Senza sapere che era l'acqua benedetta. Quindi non ti permettere più. Per dire com'è. Anche le, anche le. Perché hai il mondo? Finitela. Finitela. Per dire com'è l'importante dico? Maria? Mariuccia? Io. Ma la度. Ma la度. Ma la度. Ma la度. Ma la度. Ma la度. Ecco, la testimonianza è chiare. E' chiare. Andiamo. Allo scopo di espiare i peccati del popolo. E' chiare. Significa questo. Ogni peccato è un debito. Lui paga per noi. Lui ha pagato per noi. Dalle ceppiaghe siamo stati guariti. Dalle ceppiaghe siamo stati guariti. Andate a vedere il capitolo 52 del profeta Isaia. Andate a vedere l'Issalmo 22. Va bene. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sorpetto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Lui comprende la sofferenza. L'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Così viene definito Gesù. Va bene. Abbiamo finito? Sì. Sì. Scuso io. Adesso dobbiamo dire. Generato prima dell'aurora, beata o vergine Maria, hai portato il creatore del mondo. Hai dato la vita a colui che ti ha creata e sei vergine per sempre. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Hai dato la vita a colui che ti ha creata e sei vergine per sempre. Ci mettiamo in piedi e regitiamo il Tedeum. Schema numero due. Forse Francesco. Noi te lo diamo, Dio. Ti proclamiamo a Dio. Poi te lo panno. C'è la terra e la piazza. A te, Papa. Ricattano gli angeli e tutte le potenze dei Cieli. Santo, 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 il Signore è Dio dell'Universo. Ti viene la terra, non viene le potenze. Ti acclama nel corno degli apostoli, e la candida schiena di Marti. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La sua Santa Chiesa fa la mano al suo dolore. A tuo dolore, il tuo figlio e lo suo figlio. Il tuo figlio e lo santo amare. O Cristo, re della morte, eterno figlio dell'Uomo, una chiesti della Vergine Madre della salvezza dell'Uomo. Vingitore della morte, hai aperto ai credenti il Regno dei Cieli. Tu siete alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che è redendo col tuo sangue perso. Accoglici nella tua gloria nell'Assemblea dei Santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. degna di oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo convusi in Eterno. Cantiamo Ave Speranza Nostra. Ave Speranza Nostra. Ave Vigna Pia, Ave Vigna di Grazia, O Vergine Maria, Ave Fugida Rosa, Provedo sempre a te ne, Ave Vigna Pia, Ave Vigna Pia, Ave Vigna Pia, Dalla Sirpe di Esse, In te vita e la morte, la schiavitù è redenta, ridonata la pace, aperto il paradiso, O Trinità Santissima, A te l'inno di grazie, Per Maria, Nostra Madre, Nei secoli dei secoli, Nei secoli dei secoli, Forza, andiamo a vedere. Ciao, lo sanno, ciao. Forza, allora, Leandivone, Leandivone, Le antifone, le antifone e i salmi. Un germoglio è spuntato da Iesse, una stella è assolta da Giacobbe, dalla Vergine è nato e salvatore. Lode a te, nostro Dio. O Dio, tu sei il mio Dio, all'autora ti cerco, di te assente l'anima mia, a te adela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'alto condito e con molti di gioia ti roverà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si strigge l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. Un germoglio è sfondato dagli esse, una stella è sorta da Giacobbe, dalla Vergine è nato il Salvatore, l'ode a te, nostro Dio. Maria ci ha dato il Salvatore, Giovanni lo vide ed esclamò, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite pioggia e rugiani, il Signore. Benedite oventi tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiale e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e lupi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove dell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedite Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite oserpi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e animi dei giusti, il Signore. Benedite pigli e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltiamolo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Maria ci ha dato il Salvatore. Giovanni lo vide ed esclamò, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. La donna ha generato l'Eterno Re. Onore alla Vergine, gloria alla Madre. Come lei non è stata e non sarà nessuna. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode dell'Assemblea dei fedeli. Gioisca in Israele del suo Creatore. Esultino nell'orre i figli di Sion. Gloriano il suo nome e con danze. Il Signore ama il suo popolo, il corona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli della gloria, solcani i figli dai loro eserciti. L'odio di Dio sulla loro bocca e la spagna sui tagli nelle loro mani. Per coprire la vendetta tra i popoli e pulire le genti. Per stringere in catena i loro capi, i loro nobili, i genti di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. La donna ha generato l'Eterno Re. Onore alla Vergine. Gloria alla Madre. Come lei non è stata e non sarà nessuna. Alleluia. Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire, partorirà. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli sarà là e passerà con la forza del Signore. Con la maestà del nome del Signore suo Dio. Egli sarà la nostra pace. Il Signore manifestò la sua salvezza. Alleluia. Alleluia. Il Signore manifestò la sua salvezza. Alleluia. Alleluia. Alle nazioni riperò la sua giustizia. Alleluia. Alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore manifestò la sua salvezza. Alleluia. Alleluia. Benedetto il Signore. Meraviglioso mistero. Oggi tutto si rinnova. Dio si è fatto uomo. Immutato nella sua divinità. Assunto la nostra umanità. Benedetto il Signore è il Signore Dio di Israele perché ha visitato eredendo il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. del giuramento fatto ad avramo nostro padre di congederci liberati dalle mani dei nemici. Dio si è ricordato di congederci liberati dalle mani di quanti ci odiano e 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 di quanti ci odiano. grazie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati grazie alla fonda misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge grazie all'alto un'alto 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 un'al come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. Meraviglioso mistero, oggi tutto si rinnova, Dio si è fatto uomo, imputato nella sua divinità, a scurdo la noc da umanità.